Un tempo la gente che preannunciava la fine del mondo veniva rinchiusa. Oppure derisa. O tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo. Niente piani per il futuro. Ma aveva un retaggio pesante. E voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti. Altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che rapì Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari. Il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni. Anche di più per chi crede alla storia della loro origine. Come me. Dopotutto, conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus. Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione. A scrivere la storia erano... I vincitori. Vogliamo rimediare. E liberare le menti e i corpi. Ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma a qualcosa di più grande gli assassini e i Templari si avvicina. È più grande di tutti noi. E se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita. Per tutta l'umanità. Alla fine tutto si riduce a lui. A Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini. Ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo si è allenato. Ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo. E speriamo. Resto però lo scopriremo. La data in fausta si avvicina. 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà. Se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Ci hanno guidato. Nel loro modo oscuro e frustrato. Con le voci della prima civilizzazione. Di coloro che vennero prima. Una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui. E con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato. Armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden. E noi siamo al suo fianco. Pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Si chiama Desmond Miles e ci ha guidati fino alla fine. Il nostro paese bisogno. Ci siamo. Andiamo. Andiamo. E subito dopo Alice si gettò dietro di lui. Senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto farlo. Mi sa che ci siamo. Andiamo. 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 La chiave Devi trovare la chiave Gess Signore? Ci risiamo Desmond Puoi sentirci? Sì, cosa è successo? Il tempio ha scatenato l'effetto osmosi, sei crollato e hai perso conoscenza E ovviamente mi avete messo nell'animus invece di, che so io, vedere se stavo bene Non sei in pericolo E poi il tempio sembrava comunicare con te E non voglio rischiare di interrompere la connessione, almeno finché non scopriamo cosa vuole Già, ma certo Senti, io... No, va bene, capisco E so anche cosa devo cercare in realtà Una chiave Solo che non so dove si trovi Forse per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi Lei Giunone, papà È lei che mi parla Ok, Desmond Mentre eri in gita a Costantinopoli Abbiamo caricato un aggiornamento per l'animus Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi Va bene Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi Raggiunge il segnale Ok, Desmond Adesso prova ad arrapicarti un po' Ok, Desmond Ora una forza acrobatica lungo quel percorso Una cosa importante Ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione Bene, Desmond Segui le istruzioni a schermo e uccidi due Templari Qui è facile, devi soltanto saltare Ok, Desmond Il livello di sincronizzazione è buono ora, dovremmo poter ricreare l'ambiente. È ora di scoprire cosa vuole te più da te. Signore, signore, va tutto bene, signore? Sì, certo. Sono solo preoccupato tutto qui. Non scordate l'invito. Mastro Verge vi aspetta all'interno. Grazie. È un piacere. Dove devo attendermi? Di fronte all'opera. Le fai alla svelta. Non resterò più a loro. Me ne occuperò subito. L'invito, per favore. Vuole darmi il sopravvito, signore? Signore e signori, siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. Buonasera, signore. Di qua, prego. Buonasera, Ethan. Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena a questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo vedete. E' seduto in un palco lassù, in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. L'ho già fatta. Non so dire. Che bello. Che bello. quando ho fatto il tempo prima, ho detto che ci sia come se non rende il suo lavoro questo è un'azienda senza reprieve io mi vincere a booker for Tom Gag for me pounce let Betty Slyno, i'll save her from the transportation so I can get more of my estate in easy Betty has brought more goods since you owe a lot here than any friver of the game and in truth, it is a pity to lose so good a customer if none of the game take her off she may, in the common course of business leave her 12 months longer I love to let her win straight a good sportsman always hits the end of my heart it is blight, it was the breed of the game depends on you besides, here the law allows us no reward there's nothing to be got by the devil win except our wife without dispute, she is a fine it was to her I was obliged to my education and to say a bold word come on, okay, sir, this is how you're guilty no lazy dog when I took him the time before I told him what I've come to if he did not bend his hand this is death without... oh first quote sterning we first were taught now we've been on Grazie a tutti. 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 Che ci fanno svegli uomini qui? Grazie a tutti. E com'era l'opera? Assai noiosa, dire il vero. Andiamo allora. Già, a Fleet Street. Come desiderate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E... Ehm... E... Bene... E... 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Chiudete... Grazie a tutti. Puoi? Do... Do... che vi prenda... e... e... forza... ... ... serve... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ... ... ...... i soldati disarmeranno avete perso la ragione che leggo la tenta non è capito non è capito non è viva la mossa ragazzi vi avendo è meglio ritornare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti